Sono contento di essere qua perché ho visto che in questa città sono un momento molto ambiziosa, il mister è presente quando ho trasmesso questa cosa, la volontà di questa piazza, la loro volontà di fare bene e sono contento di essere qua. Cosa senti di poter dare in questa scuola? Io voglio essere un esempio per i ragazzi soprattutto, ma per me stesso, ho voglia di lavorare, di giocare bene, di aiutare i compagni, sia giovani che anche quelli più grandi, a crescere, perché non è mai tardi per migliorare questo lavoro. Dal punto di vista fisico come sta? No, sto bene, sto bene, mi sono allenato, mi manca ovviamente il tuo partito perché è un po' che non gioco, però mi sono allenato e mi sento bene.